Questo video riguarda i migliori tre pneumatici auto. Il vincitore della qualità è il Bridgestone Potenza. Bridgestone Potenza Sport è un pneumatico ad elevate prestazioni per i conducenti che vogliono avere sicurezza quando sfruttano il potenziale della loro auto e vivono il loro viaggio avendo il pieno controllo del mezzo. Bridgestone Potenza Sport raggiunge le massime prestazioni attraverso l'utilizzo di diverse tecnologie innovative come il design asimmetrico del battistrada, la mescola del battistrada e la carcassa ottimizzata. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il slime pneumatico. Kit di emergenza completo per riparare pneumatici, compressore, sigillante da 450 ml, accessori per gonfiabili palloni, istruzioni, custodia con zip. Bastano 10 minuti per riparare e gonfiare completamente gli pneumatici premendo solo un pulsante. Non servono né cricche né attrezzi e non bisogna rimuovere la ruota o il nucleo della valvola. Si inserisce in una presa accendi sigari auto da 12V, presenta un quadrante per monitorare la pressione degli pneumatici e una valvola di rilascio della pressione. Sicuro per il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici sigillante approvato dai principali produttori di veicoli. Sigillante per riparazioni di emergenza sicuro e facile da usare, da usare per 3 giorni o fino a 160 km sui veicoli stradali prima di far riparare lo pneumatico da uno specialista. Il vincitore del premio è il Slime CRK0305. Slime è una miscela di fibre, polimeri eleganti non aerosol, non infiammabile e non inquinante, in grado di prevenire e riparare eventuali pneumatici sgonfi. Slime ripara istantaneamente eventuali forature e funziona ripetutamente per circa due anni. Slime non è uno dei tanti fissatori aerosol. Non appena inserito, Slime viene distribuito uniformemente all'interno del pneumatico dalla forza centrifuga. Quando si verifica una foratura gli agenti coagulanti e leganti attivati dall'aria, vengono spinti nel foro, creando un tappo flessibile di lunga durata. La confezione proposta contiene anche un compressore a 12 volts applicabile alla presa accendi sigari dell'auto. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace, e un commento.